Io penso che le nuove tecnologie saranno molto importanti, intanto perché è quasi impossibile trovare dei tessuti che assomiglino a quelli originali, per esempio a quelli rinascimentali, che erano di una ricchezza per noi incredibile, con trame d'oro, oro vero naturalmente, e anche con una qualità di fattura che difficilmente si può riprodurre. E quindi io penso che le nuove tecnologie possono sopperire a questa deficienza della produzione attuale, per esempio simulando questi effetti con tecniche assolutamente nuove. Grazie